Quando 30 anni fa parlavamo di alcune malattie risosomiali, il nostro messaggio alla famiglia era tristissimo, dicevamo non c'è nulla da fare. In questi ultimi 30 anni un po' un processo rovesciato, queste malattie sono riuscite nella maggior parte dei casi a trovare una terapia, una terapia non sintomatica, ma una terapia specifica per la malattia in atto. Allora nel corso degli ultimi 10 anni, utilizzando le tecniche che sono in uso nei laboratori per i differenti pannelli di screening che chiameremo classici, si è cominciato a vedere se anche alcune patologie risosomiali per le quali c'era una terapia efficace potessero rientrare in progetti di screening di prevenzione. E' chiaro che stiamo parlando degli ultimi anni, per cui il processo è stato un po' quasi inverso, nel senso che la terapia è stata la forza che ha spinto a includere queste malattie. La combinazione di singola macchia di sangue, dove è possibile misurare un enzima e dove c'è un trattamento per il deficit enzimatico, ha dato l'origine, soprattutto negli Stati Uniti, allo screen delle patologie risosomiali. I dati che abbiamo dalle esperienze americane indicano che la frequenza di queste patologie è certamente, se non sovrapponibile, se non è già incluse nei pannelli di screening. Per questa motivazione nel settembre 2015 è stata fatta dalla Regione Veneto una delibera per includere anche queste quattro patologie risosomiali da affiancare a ciò che veniva già incluso dal 1 gennaio 2014 nel pannello di screening delle malattie metaboliche ereditarie. Queste quattro patologie risosomiali non necessitano di un ulteriore prelievo. La stessa macchia di sangue viene utilizzata per il pannello classico, ora di legge, chiamiamolo, più per queste quattro patologie risosomiali. Si inglobano secondo me due patologie particolarmente interessanti, la malattia di pompe e la mucopolisacca è una malattia mortale, è una gravissima cardiopatia che provoca un ingrossamento del cuore fino a creare l'incapacità di contrarre l'exitos e per questa malattia c'è una terapia enzimatica che si è mostrata molto efficace nell'azione cardiaca. La seconda è la mucopolisaccaridosi tipo primo, perché è una malattia anche questa che è la diagnosi precoce e l'intervento sia terapeutico che trapiantologico hanno cambiato il decorso della malattia e queste due malattie sono ormai incluse obbligatoriamente negli Stati Uniti nel pannello di screening classico. Noi nel vento aggiungiamo altre due malattie che sono la malattia di Gaucher, una malattia molto interessante perché è la malattia da uno studio retrospettivo fatto negli anni 2000 più frequente come malattia lisosomiale in Italia e la malattia di Fabri perché nell'identificazione del neonato si riesce a vedere anche se la mamma ne è affetta e pertanto vedere l'albero familiare e eventualmente altri soggetti che possono portare la stessa malattia. I dati che noi abbiamo ricevuto da questo screening sono veramente dati importanti, abbiamo avuto una frequenza per queste malattie di circa 1 ogni 6 mila nati, abbiamo anche sviluppato e questa è una cosa che ci ha molto impegnato ma che noi siamo orgogliosi delle metodologie per cui i richiami sono limitati perché abbiamo inserito nel pannello di screening di malattie lisosomiale un'indagine che viene fatta nello stesso cartoncino iniziale per dire in maniera più appropriata se questo enzima è veramente carente oppure no, ogni paziente viene poi testato anche dal punto di vista molecolare per cui forniamo alla famiglia un prodotto tra virgolette finito per identificare questi pazienti. Non tutti questi pazienti vanno in terapia, vanno a seconda della gravità della malattia per cui anche questo spieghiamo ai genitori che per alcune malattie faremo un follow up attento per essere pronti ad evidenziare eventuali sintomi ed iniziare la terapia. È un progetto difficile, è un progetto che spero venga seguito anche da altri centri, ma che secondo me è una valenza molto importante perché dove c'è una terapia e la efficacia della terapia è chiaramente dimostrata, si basa su una diagnosi precoce, spendere soldi per terapie che sono inefficaci perché la diagnosi è tardiva è quasi un controsenso.